Salve amici del Centro Meteo Italiano. Alta pressione in rinforzo e tempo più stabile nei prossimi giorni. Vediamo però nel dettaglio le previsioni per giovedì 6 giugno. Tempo asciutto al mattino su tutta la penisola con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Al pomeriggio poche variazioni con qualche isolato acquazzone in formazione solo sull'arco alpino. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ovunque con nubi sparse e ampie schiarite. Temperature minime e massime in generale rialzo su tutta la penisola. Per ulteriori dettagli seguite le previsioni aggiornate sul nostro sito oppure sulla nostra app Meteo. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.